Buonasera e benvenuti al recap ciclico di quanto è successo oggi su DAX e Fuzzimib. Innanzitutto siamo andati già subito e immediatamente in apertura a target, quello che vi avevo già dato nell'analisi della giornata di ieri, ovvero la chiusura del gap down che c'è stato in apertura del 4 di maggio. Abbiamo raggiunto con un gap up il movimento stesso e c'è una cosa interessante che non so quante persone conoscano e abbiano visto. C'è un island qua. L'island è una figura molto interessante perché permette praticamente un movimento verso l'alto forte se confermato. Questo ci fa pensare appunto al fatto che se il sesto t-3 inverso potrà ancora andare a chiudere da qualche parte, o ha già chiuso su questo massimo a 21 barre, molto corto ma a volte lo fa su DAX. Oppure non è ancora chiuso perché questo massimo è stato fatto a 10.918 d'inverso, 917, 910, 914. Teoricamente non ha ancora chiuso nemmeno l'inverso e nemmeno il t-inverso. E quindi non c'è ancora stato un massimo che vada effettivamente a chiudere anche perché il sesto t-3 può essere l'ultimo, d'accordo, del t settimanale inverso iniziato qua, iniziato sul massimo del 30 aprile. Ma nella realtà dei fatti nulla ci vieti che, come il precedente, probabilmente t più 2 inverso si rivincoli a ribasso di inverso, ovvero a rialzo di indice e continua ad andare su. Questa è la mia ipotesi principale. Tengo a ribadirla in questa sede. Vedremo. Lunedì potrebbe essere una giornata decisamente interessante. Ho deciso di mettere un piccolo chip long questa sera, questo pomeriggio. Vedremo se il seme è stato piantato bene e ci possono essere dei validi riscontri, scuonente. Riallargo il grafico. Siamo andati in Golden Cross. Abbiamo lateralizzato molto. Se andiamo a vedere anche l'altro grafico con le medie mobili sempre su DAX, quello a 20 minuti, abbiamo un'idea più chiara di come si stia muovendo il nostro DAX. Vediamo anche che le medie mobili più rapide sono già andate totalmente in Golden Cross rispetto a quelle più lente. Le più rapide sono quella blu del T-2, quella gialla del T-1, e quella verde che è già una media lunghezza del T settimanale che è orientata però bene orientata per la del suo rialzo. per cui se la figura dell'island verrà confermata inizierà a essere particolarmente interessante questo T e anche avremo una bella conferma probabilmente appunto su quanto vi dicevo relativamente all'inverso che si potrebbe essere già un colato ribasso ovvero a rialzo per l'indice e quindi portarci verso su. Non metto il cursore in un posto a caso. Per quanto riguarda invece il nostro proprio Fuzzinib, sul time frame a 15 minuti abbiamo già visto che il primo T-1 se questo intero movimento non è un raccordo idea non mia ma data dalla persona di un altro gruppo di trader con cui mi confronto al telefono tanti gruppi come vi dicevo gruppi di amici, trader gruppi di trader che sento in altre chat e poi ovviamente i miei due gruppi che coordino su Facebook sia quello unicamente didattico che il premium che invece è quello in cui si fa anche operatività oltre che a didattica molto più operativa. Quindi qui effettivamente teniamocelo in uno spazio della mente teniamocela alla possibilità che stia partendo che ci sia stato un raccordo e che questo possa diventare il nuovo T-3 che è il primo T-3 di un nuovo settimanale. Io continuo a tenere però la centratura così anche perché mi fa un po' paura il fatto che non ci si stia invece sollevando che non siamo andati in Golden Cross per ora come invece è successo appunto su Dax e quindi noterete anche che l'island qui non c'è non c'è proprio niente rispetto al Dax e se dobbiamo andare a vedere l'SPX lo stanno nel pulso andiamocelo a prendere dall'altra parte c'è anche un'altra cosa interessante da notare ovvero che la partenza V ovviamente è già stata confermata assolutamente e che siamo andati oltre il recupero del 60% dalla difesa stiamo facendo un recupero fenomenale ragazzi abbiamo superato la media mobile a 50 periodi che è in Death Cross rispetto a quella blu e se andremo a virgolarci a ribasso anche qui di inverso come è possibile che succeda non guardate i conteggi perché non sono ancora stati aggiornati se andremo appunto sopra questo massimo a 2972 ci sarà la possibilità di continuare ad andare a sua salire per cui abbiamo che la Standard & Poor's ha un grafico molto simile a quello del Dax anche se il Dax vedete che non ha raggiunto la forza non ha avuto la forza per raggiungere il livello che invece è già stato raggiunto parzialmente dall'SPX ma quanto riguarda il Fuzzinib vediamo guardarcelo insieme sì vi faccio vedere che differenza c'è ok questa è la differenza non siamo arrivati al 38% di recupero dalla discesa che abbiamo fatto quindi la situazione è estremamente diversa estremamente diversa fate attenzione a queste cose d'accordo? vi ringrazio per l'ascolto se l'analisi vi è piaciuta sottoscrivete il canale che intanto è gratuito cliccate sulla campanella perché vi avviserà quando ci sarà il prossimo video e mettete ovviamente un like se avete dubbi scrivete qualche commento d'accordo? seguiranno nel weekend come al solito le analisi più approfondite sulle candele appunto daily sia di Fuzzinib che di Standard & Poor's 500 che anche di DAX buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti